Si è spento nella notte al Crodi Aviano dove era ricoverato dal 26 dicembre il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, il cordoglio ricordo della politica, uomo delle istituzioni europeista convinto. Regione e aziende sanitarie in Sier stanno lavorando per andare automatica alla fine dell'isolamento per i qualiti dal Covid appena l'esito negativo del tampone viene processato, la fine di un incubo per migliaia di cittadini. Un finanziario in pensione è morto nello scontro tra la sua auto, uno scuola bus questa mattina a Carlino, forse un malore all'origine dello schianto, sul furgoncino viaggiavano sette bambini dell'asilo, tre sono rimasti feriti. Il corpo ritrovato nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste è quello di Liliana Resinovic, lo hanno riconosciuto vedendo le foto del fratello e del marito della vittima. Entra in farmacia con il volto coperto dalla mascherina armato di una lama, minaccia la farmacista e si fa consegnare il denaro in cassa, poi prende anche il portafoglio di un cliente e scappa, è successo a Coseano. Buonasera, ben ritrovati a un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il presidente del Parlamento europeo, Davide Sassoli, è morto in Feriuli, nella notte il presidente dell'Europarlamento, David Sassoli, era ricoverato dal 26 dicembre al Cro di Aviano per complicanze al sistema immunitario. Il giornalista e politico si è spento a 65 anni. A ottobre, sempre per problemi di salute, aveva dovuto rinunciare alle commemorazioni per la tragedia del Vajonte. Il presidente del Parlamento europeo, Davide Sassoli, è morto nella notte al centro di riferimento oncologico di Aviano, dove era ricoverato dal 26 dicembre per una complicanza al sistema immunitario. A dare la notizia è stato il suo portavoce, Roberto Cuillo. Dopo due settimane di cure nell'Istituto Pordenonese, in seguito all'aggravarsi del quadro clinico nelle ultime ore, Sassoli si è spento a 1.15 di oggi, all'età di 65 anni. Nel più rigoroso riservo, come lui aveva voluto, il nostro servizio sanitario al Cro di Aviano lo aveva seguito, ha commentato il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, che ha sottolineato come alla politica mancherà un uomo di valore, un grande europeo. Da volto familiare del Tg1 a presidente del Parlamento europeo, quella di Sassoli, nato a Firenze, è stata una vita divisa fra il giornalismo e la politica come esponente di spicco del Partito Democratico, fino a diventare nel 2019 presidente dell'Europarlamento. E proprio in questa veste avrebbe dovuto presenziare alle commemorazioni per la tragedia del Vaillant, appuntamento per il quale aveva dato la massima disponibilità all'eurodeputato friulano Marco Dreosto, organizzatore dell'iniziativa. Purtroppo, per due volte la sua partecipazione è saltata. Nel 2020, per la quarantena imposta dopo un contatto con un positivo in piena pandemia, poi lo scorso ottobre per una polmonite che l'aveva costretto a un ricovero in un ospedale di Strasburgo, ma aveva comunque inviato un messaggio al Friuli, sottolineando come il Vaillant fosse un simbolo degli errori e delle tragedie che l'Italia avrebbe potuto evitare. Tantissimi i messaggi di cordoglio dal mondo della politica e non solo che stanno giungendo in queste ore per ricordare la figura di Sassoli e il suo impegno per l'Italia. Profondo il cordoglio espresso dalla politica regionale che in modo trasversale ha sottolineato il dolore per la perdita di un uomo di alto livello umano e professionale. Un grande vuoto e profonda commozione sono le sensazioni principali lasciate dalla prematura scomparsa del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Il mondo della politica regionale, in modo trasversale, ha espresso il proprio dolore, a partire dal suo partito democratico. David Sassoli è stato una persona, prima come giornalista, sobrio, elegante, preparato, un giornalismo di cui spesso sentiamo la mancanza, poi come politico, veramente un politico che ha messo in campo passione, competenza, ma soprattutto ha ridato forza e credibilità alle istituzioni europee. Deborah Serracchiani, capogruppo PD alla Camera, ha ricordato i primi passi in politica accompagnata da Sassoli ed ha esternato profondo dolore per la perdita di un amico. La senatrice pedita Diana Roic ne ha ricordato sorriso e competenza, stigmatizzando la malvagità dei recenti commenti Novax nei suoi confronti. E a nome del Friuli Venezia Giulia, il governatore Massimiliano Fedriga, ha manifestato il suo cordoglio. Sicuramente su alcuni temi avevamo visioni differenti, ma lo ritenevo e lo ritengo un abile e bravo politico, con posizioni diverse delle mie, ma che merita e meritava rispetto. Quindi esprimo alla sua famiglia e al Partito Democratico e al Parlamento Europeo le più profonde congiuglianze da parte mia e delle istituzioni che rappresento. Addolorato, l'europarlamentare Marco Dreosto. Ho avuto modo di conoscerlo molto da vicino, proprio nell'organizzazione di quella che avrebbe dovuto essere la sua visita sui luoghi della tragedia del Vajot. Già allora purtroppo la malattia non gli permise di intraprendere quel viaggio, ma volle che comunque quella cerimonia si tenesse, incaricandomi tra l'altro di leggere proprio un suo toccante messaggio. In alcuni viaggi, tra l'altro, che abbiamo fatto assieme di rientro da Bruxelles, proprio quando si recava ad Aviano per i controlli, non mancava mai di sottolineare l'eccellenza del centro di riferimento oncologico. Anche gli esponenti del Consiglio regionale hanno salutato Sassoli con in testa il Presidente dell'Assise, Piero Mauro Zanin, secondo il quale l'Italia perde un vero punto di riferimento in Europa. Il Presidente della Regione, Fiori Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, sposa la linea del Governo Draghi e conferma come gli ospedali siano sotto pressione a causa dei non vaccinati, senza i quali saremmo in zona bianca. I numeri in Fiori Venezia Giulia, se guardo le terapie intensive, sono addirittura più elevati rispetto al ricovero di chi non è vaccinato rispetto a chi è vaccinato. Abbiamo dei numeri impressionanti su una platea di soggetti che è decisamente minoritaria. Abbiamo poco più di 10% di persone non vaccinate che occupano in generale il 60% dei posti letto, ma in terapia intensiva ne occupano moltissimi, io penso che sfioriamo il 90%. Dopo l'appello del Premier Mario Draghi, anche il Presidente della Regione sottolinea ulteriormente l'importanza della campagna vaccinale in un territorio, il Friuli Venezia Giulia, dove l'attività medica ora è stata ridotta del 40% di meno rispetto ad altri. Pensare di chiudere attività per ridurre i contagi è illusorio. Noi dobbiamo pensare oggi di cambiare strategia perché è cambiato il virus, siamo di fronte a una nuova variante, una variante estremamente più contagiosa, ma che vediamo che soprattutto con le terze dosi riusciamo a ridurre in modo molto forte la gravità della malattia stessa. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna ridurre i tamponi per gli asintomatici e i tracciamenti, perché è insostenibile. Tamponi solo per chi ha sintomi, quindi mentre Friuli Venezia Giulia si avvicina all'arancione. Siamo molto vicini, siamo molto vicini all'arancione. Voglio ricordare che però, che con le misure che la conferenza delle Regioni aveva chiesto al Governo, per i vaccinati l'arancione è come la zona bianca. L'avevamo voluto perché c'è una grande differenza tra chi è vaccinato e no. Cosa vuol dire? Che il non vaccinato rischia di andare in ospedale. Ed ora andiamo a vedere i dati della pandemia con 4.187 nuovi contagi, 9 decessi da Covid. Le vittime hanno tra i 66 e i 92 anni. Su 9.026 tamponi molecolari sono stati rilevati 916 nuovi contagi, con una percentuale della 10,15%. Sono inoltre 25.739 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.271 casi, 12,71%. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 37, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 353. Le persone in isolamento sono 37.470. Sono ben 110 casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore tra il personale del Servizio Sanitario regionale. Infine, nelle residenze per anziani, si registra il contagio di 40 ospiti e 33 operatori. È attivo da un anno il servizio di vaccinazione protetta istituito da Asurgi per i soggetti a rischio che devono effettuare la profilassi contro il Covid, un solo caso di reazione avversa sugli oltre 800 effettuati. Un luogo protetto dove i soggetti a rischio possono fare la profilassi in totale tranquillità. Sono 800 i pazienti che nell'ultimo anno sono stati mandati dal medico di medicina generale, dal centro vaccinale o dagli specialisti che li hanno in cura, al servizio istituito da Asurgi per consentire di effettuare il vaccino Covid in totale sicurezza. Vacciniamo circa 24 pazienti a settimana. Abbiamo fatto da inizio anno circa 800 casi, con reazioni allergiche praticamente nulle, un solo caso di una reazione asmatica in un individuo particolarmente asmatico con problemi importanti di reazioni. L'ambulatorio è con monitoraggio, terapie, possibilità di agire prontamente, è all'interno dell'ospedale, quindi per qualsiasi necessità poi viene il paziente spostato in pronto soccorso o all'interno di un reparto qualsiasi e c'è il personale medico-infermieristico disponibile sempre. Il tempo di attesa per i pazienti è di 15-20 giorni per la presa in carico. Sono pazienti che hanno avuto in precedenza, nella loro storia anamnestica, o reazioni anafilattiche, o comunque problemi allergici importanti durante la loro storia, per precedenti vaccinazioni, per situazioni anche diverse, che comunque hanno portato il medico, il medico vaccinatore, a indirizzare a questo ambulatorio. I nasugi in questo momento circa 150 operatori sono assenti, causa Covid e 200 sono quelli non vaccinati. L'attività chirurgica è ridotta del 40%, ma il timore principale è legato all'effetto feste sul contagio che potrebbe registrare un aumento. Regione, aziende sanitarie ed Insiel stanno lavorando per rendere automatica la fine dell'isolamento per i guariti dal Covid, appena l'esito negativo del tampone viene processato. La fine di un incubo per migliaia di cittadini che oggi ricevono il certificato dal Dipartimento di Prevenzione anche diversi giorni dopo l'esito negativo del tampone. L'obiettivo è di rendere operativo l'automatismo entro questa settimana. Ufficialmente guariti dal Covid, ma costretti per diversi giorni a restare comunque in isolamento in attesa del certificato emesso dal Dipartimento di Prevenzione. Una condizione diffusa in regione, soprattutto da quando la variante Omicron ha iniziato ad imperversare, che ha messo in difficoltà migliaia di cittadini e tantissime famiglie. Presto però la situazione è destinata a cambiare. La Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia, tutte e tre le aziende sanitarie del territorio ed in Siel stanno infatti lavorando alla predisposizione di un automatismo che intervenga nella fase di emissione del certificato di fine isolamento. La conferma arriva dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Dennis Caporale. La possibilità di introdurre questo automatismo, spiega, è stata introdotta solo dal nuovo DL. Oggi il cittadino che ha contratto il Covid si vede inviare un sms con l'esito del tampone. Non è però sufficiente questo messaggio, con il quale viene comunicato il risultato negativo del test, per considerare concluso l'isolamento. Questo prosegue e dunque non si può uscire di casa né tornare a lavorare, fino all'emissione del certificato di fine isolamento da parte del Dipartimento di Prevenzione. Il sistema che stiamo mettendo a punto, precisa Caporale, prevede che il certificato arrivi alla casella di posta elettronica dell'isolato nel momento in cui l'esito del tampone entra nel sistema informativo, di fatto contestualmente all'invio dell'sms. L'obiettivo di Regione, Aziende Sanitarie ed in Siel è quello di rendere operativo l'automatismo entro questa settimana. Non ci sono più dubbi, è di Liliana Resinovic, il corpo trovato nel parco dell'Exop. Proseguono le indagini per capire cosa si è successo alla donna scomparsa di casa il 14 dicembre. È Liliana Resinovic, la certezza è arrivata oggi con il riconoscimento. Il corpo di donna ritrovato dai vigili del fuoco il 5 gennaio scorso nel boschetto dell'Exop. Nel quartiere di San Giovanni a Trieste è della donna scomparsa da casa il 14 dicembre e al momento continua a restare valida l'ipotesi del suicidio. Il riconoscimento è stato fatto tramite una foto mostrata al fratello della donna, Sergio. Anche il marito, Sebastiano Visentina, ha confermato la notizia. Mi hanno fatto vedere lo scatto. Avrei voluto farlo una carezza, ma avevo solo la foto. Ho riconosciuto Lilli, il suo orologio rosa, che le avevo regalato anche il suo giubbotto. Non escludo il suicidio. Nelle foto l'ho vista serena, riconoscibile dal suo ciuffo chiaro. La procura, guidata da Antonio De Nicolo e gli agenti della squadra mobile, continuano a lavorare. Nel pomeriggio è stata eseguita l'atopsia, dalla quale non sono emersi traumi che hanno portato alla morte, derivata da uno scompenso cardiaco acuto, a causa, molto probabilmente, dei due sacchetti sulla testa. Sono in corso altri accertamenti. A eseguire l'esame, il medico Fulvio Costantinides con il professor Moreschi, nominato consulente di parte dal fratello della donna. Serviranno, quindi, gli esami tossicologici, che non arriveranno prima di 30 giorni. Al momento, quindi, non si esclude il suicidio e non vi sono modifiche al fascicolo processuale aperto per sequestro di persone il 15 dicembre. Domani, il magistrato titolare del procedimento, il sostituto procuratore Maddalena Chergia, emetterà in nulla osta il seppellimento della Salma. Un militare della Guardia di Finanza in pensione, Rino Ricigliano, 74enne di Carlino, è morto questa mattina per le ferite riportate in un incendio stradale che ha coinvolto lo scuolabus del paese, feriti anche tre bambini. Uno schianto stradale frontale, seguito da un tamponamento, è costato la vita questa mattina intorno alle 8 a un militare della Guardia di Finanza in pensione, Rino Ricigliano, 74 anni, di Carlino. L'incidente si è verificato lungo la vecchia provinciale 3 Arteria che porta a Marano. Ha coinvolto anche un autobus che stava trasportando sette bambini a scuola, alcuni all'asilo e alcuni alla primaria. Tre di loro sono rimasti feriti in maniera lieve e sono stati trasportati, per accertamenti, all'ospedale di La Tisana. Sotto shock la compagnatrice, illeso l'autista. Ricigliano viaggiava a bordo di una Suzuki Ignis e per lui è stato vano ogni tentativo di rianimazione. Non è escluso che sia stato colto da un improvviso malore. Lascia moglie, figli e tanti colleghi nel dolore. Il signor Rino era una persona nota, perché comunque professionalmente ha svolto una professione a servizio dello sta persona riservata, però comunque conosciutissima in paese, anche a livello familiare, anche i figli, la moglie e quant'altro, tutti riconosciuti anche in comunità. È una tragedia e poteva diventare, come è stato ben detto, una tragedia con la T maiuscola, perché appunto il coinvolgimento dello scuolabus che appunto portava i ragazzi delle scuole primarie a lezione poteva essere coinvolto in maniera molto peggiore. Non ha ancora un'identità il corpo senza vita trovato questa mattina a Gorizia, al confine tra Italia e Slovenia. Le polizie dei due paesi lavorano insieme. Nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia. Sono ancora diversi i punti da chiarire sul cadavere rinvenuto questa mattina in territorio sloveno tra Gorizia e Nova Gorizia. La vittima, un uomo tra i 25 e i 30 anni, è stata scoperta da una passante attorno alle 7.30 ai piedi del colle della Castagnevizza, facendo immediatamente partire i soccorsi da parte delle autorità italiane e slovene. Le due polizie hanno iniziato a collaborare alle indagini nel tentativo di risalire all'identità dell'uomo. L'autopsia, che sarà eseguita a Ljubljana nei prossimi giorni, potrà dare ulteriori indicazioni sulle cause del decesso. La scoperta è avvenuta poco dopo via del poligono, zona molto frequentata la mattina da appassionati di corse e camminate, a poca distanza dall'antico monastero della Castagnevizza. Accanto alla vittima è stata rivenuta la sua bici. Nessun rumore e sospetto era stato udito nelle ore precedenti nei paraggi, come spiega una residente. Nessun rumore particolare, tranne una voce di una donna che ci chiedeva di chiamare un'ambulanza perché era morto qualcuno. C'era un giovane morto per terra, a pochi passi da casa. Insomma, siamo sul confine, quindi non sapevamo neanche esattamente se si trattasse del sentiero in Italia o del sentiero in Slovenia. Il sentiero che poi è il passaggio sopra il tunnel della ferrovia. Entra in farmacia con un taglierino e rapina. La titolare è una cliente, successo ieri pomeriggio nel centro di Coseano. Scossa la comunità. Rapina nella farmacia di Largo Municipio, in centro, a Dignano. Intorno alle 17.30 di ieri, un malvivente è entrato nel negozio con indosso la mascherina e ha minacciato la farmacista con una lama, intimandole di consegnare i soldi che aveva in cassa. La donna non ha reagito e ha consegnato qualche centinaia di euro. Rapinato nel suo portafoglio anche un cliente. Il malvivente si è poi allontanato con un'auto, facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Scossa la comunità del paese. È una situazione molto dispiacevole per il nostro comune, ma anche per la società attuale che è già piena di grossissimi problemi. La signora è molto forte, comunque quindi ha reagito con grande saggezza, con grande calma e sangue freddo, però è chiaro che la situazione è molto brutta. Quando si tratta di balordi potrebbe anche accadere che succedano delle cose ancora peggiori. Le telecamere sono proprio a 20 metri dalla farmacia, quindi penso che abbia le ore contate questo ladro. Due infortuni sul lavoro. Il primo è una ditta di Sutrio, dove una donna di 54 anni di Villa Santina ha riportato l'amputazione di tre falangi delle dita di una mano mentre stava eseguendo alcune operazioni all'interno della struttura produttiva. Mentre ieri a Porto Nogaro due operai stavano eseguendo dei lavori di manutenzione nel vano motore di un'imbarcazione quando uno dei due è caduto dalla scala. Il collega ha chiamato il 112, intervenuta un'ambulanza. L'uomo, un cittadino stranino di 43 anni, residente a Mo Falcone, dipendente di una ditta con sede nella città di Cantiere, ha riportato diverse tumefazioni. Il furto di una bicicletta è uno zaino, può costare davvero caro. Un trentenne, residente a Cordenosa, è stato condannato un anno e otto mesi di reclusione. A decidere è stato il giudice Daniele Faleschini, Barnaba del Tribunale di Udine. La pubblica accusa aveva chiesto otto mesi di reclusione. L'uomo è stato riconosciuto colpevole di aver rubato nella notte tra il 7 e l'8 luglio 2020 una bicicletta parcheggiata vicino a un ufficio spiaggia di Lignano. Successivamente aveva rotto l'unotto posteriore di un'automobile per prelevare uno zaino contenente indumenti ed effetti personale. Il condannato era stato rintracciato e fermato il giorno dopo dai carabinieri in sella alla bici rubata. È partita oggi al centro di ascolto allestito a Udine in via Eritrea la raccolta delle richieste dei cittadini che abitano nelle case di San Domenico destinate ad essere abbattute e per far posto a nuove costruzioni. Aperto oggi a Udine in via Eritrea 25 lo sportello d'ascolto per i cittadini che vivono nelle case Ater della zona di San Domenico che rientrano nel progetto del comune di riqualificare anche dal punto di vista energetico un'intera zona. Noi stiamo bene dove siamo. È un appartamento che noi l'abbiamo ristrutturato. Sono case che è un peccato toccarle. Mio nonno e mio padre sono stati fra i primi. Io sono la terza generazione che sono qui. Mi scusi ma mi viene sul magone a pensare di vedere certe cose. per noi è un quartiere storico. Ci fa male a vedere quello che stanno facendo che che se ne dicano i signori architetti i signori che ci stanno governando dovrebbero venire di persona. Io sto bene lì perché sono solo due stanze però ho bisogno di mia figlia che sta vicino perché mio marito non cammina e io sono invalida anch'io. Io dico non mi muovo. Andi portami via la polizia perché io non mi muovo. E l'amministrazione comunale raccoglierà le richieste dei cittadini che dovranno trasferirsi in altri alloggi in attesa che quelli in cui vivevano danni vengano ricostruiti. Il comune era sicura. Dopo aver ascoltato le esigenze di tutti cercheremo di dare risposte adeguate. Per il lotto che interessa il comune di Udine ci sono delle famiglie che dovranno traslocare momentaneamente per poi rientrare nei nuovi alloggi. Oggi siamo qua per capire quali sono le esigenze delle famiglie sia per la fase temporanea di trasloco sia per la fase definitiva. E ripeto, questo è un progetto pensato per le famiglie, per chi ci abita e quindi vogliamo accompagnare tutti in questo percorso che non sarà sicuramente facile però noi ascolteremo tutti. La cosa che va al primo posto è la tranquillità delle persone e fargli capire che è importante per la città di Udine non si possono perdere certe occasioni. Però le cose vanno fatte per bene. Chi è costretto ad andare via da qua? Ha la certezza di ritornarci dopo? Nel modo più assoluto. Sono entrato in queste case e mi rendo conto dei soldi, dei sacrifici che ci hanno messo dentro. Quello che è stato deciso è che nel modo più assoluto ha la certezza, il diritto prima di tutti gli altri di restare qua e non solo. Se ci sono dei nuclei familiari non solo dei nuclei familiari delle scale che ci sono delle persone della stessa scala che avevano un buon rapporto creato con gli anni nel limite del possibile e vedere di farle stare anche vicine. Contagi in aumento e norme anti-covid più restrittive frenano l'afflusso dei cittadini e qui gli acquisti in centro a Udine dove si intensificano i controlli da parte delle forze dell'ordine. Mi trovo in centro a Udine come potete notare il movimento è piuttosto scarso. Parliamo con il sindaco di Udine Pietro Fontanini che tra l'altro oggi ha partecipato a un incontro in prefettura a Udine. Sì, abbiamo fatto il punto della situazione perché sono scattati i controlli e adesso le persone devono avere il Green Pass in possesso del Green Pass per poter entrare anche a bere un caffè. Mi sembra che la gente sia responsabile però effettivamente è diminuito il numero delle persone in città probabilmente c'è questa preoccupazione. C'è il coinvolgimento della polizia locale in questo caso. Sì, la polizia fa i controlli a campione verifica che le persone che sono all'interno di un negozio o di un ristorante o di un bar abbiano il Green Pass. Abbiamo parlato di multe anche perché si è constatato che la gente è responsabile che finora le cose stanno andando bene. Circa 400 milioni di euro di investimenti 25 nuovi treni e rinnovo della flotta regionale entro il 2025 con consegna del primo convoglio nel 2023 sono i punti principali del nuovo contratto di servizio 2022-2031 sottoscritto dalla Regione e Trenitalia. Un lavoro lungo e intenso per arrivare a un nuovo contratto dalla durata di 10 anni e dal valore di 816 milioni di euro per implementare il servizio migliorare i mezzi e creare un centro di manutenzione a Trieste con nuovi posti di lavoro la Regione e Trenitalia hanno presentato un nuovo contratto di servizio. Il contratto è di 1 miliardo e 200 milioni all'interno di questo miliardo e 200 milioni ben 400 milioni sono proprio per gli investimenti e 270 sono in nuovi treni quindi la vera novità non è solo studiare aver ristudiato gli orari aver visto dove aumentare i treni ma mettere treni nuovi quindi parliamo di 25 treni nuovi di cui 14 ci sono treni rock a doppio piano considerate che possono portare più di mille persone e invece altri 11 sono treni blues quindi ibridi che hanno elettrico diesel ma anche batterie che portano circa 300 persone. Soddisfazione da parte della Regione il Presidente Massimiliano Fedriga ha sottolineato l'importanza di un contratto di 10 anni e non da 3 più 3 anni come in passato che consente a Treni in Italia di pianificare l'assessore regionale Graziano Pizzimenti ha invece posto l'accento sul controllo della qualità del servizio che verrà fatta resta però il nodo dei treni a lunga percorrenza La grande novità è quella della continuità territoriale dell'aeroporto che è passata a livello ministeriale adesso vediamo a livello nazionale quindi sarebbe la grande novità nei prossimi anni cioè quella di far entrare l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia come un aeroporto diciamo che deve avere dell'agevolazione per chi viaggia rispetto agli utenti normali in giro per l'Italia Marco Turco rimane sindaco di Torviscosa almeno fino al 23 febbraio giorno in cui è stata fissata l'udienza al TAR dopo la consegna dei voti che oggi sono stati controllati in regione in seguito al ricorso presentato da Enrico Monticolo a Torviscosa è destinata a continuare almeno per un altro mese e mezzo l'attesa per capire se il sindaco Marco Turco continuerà a rimanere in carica o se sarà sostituito da Enrico Monticolo alle elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre del 2021 i candidati a sindaco avevano ottenuto 544 voti ciascuno e solo per una questione di dati anagrafici Turco aveva avuto la meglio perché è più giovane di tre mesi rispetto a Monticolo oggi in regione a Udine sono state ricontate tutte le schede in seguito al pronunciamento del Tar che aveva accolto il ricorso presentato da Monticolo e i numeri rimangono gli stessi rilevati allora dai presidenti dei tre seggi elettorali di Torviscosa ora la regione passerà ai verbali al Tar l'udienza è prevista per il 23 febbraio aspetto l'esito del giudice del Tar con calma e serenità afferma Monticolo che si astiene da qualsiasi altro commento sulla vicenda dal canto suo Turco è soddisfatto perché i conti tornano i tre presidenti di seggio commenta hanno fatto bene il loro lavoro nel primo seggio Turco aveva ottenuto 201 voti contro i 165 di Monticolo nel secondo i voti per Turco erano stati 200 e per Monticolo 147 nel terzo che raggruppa le frazioni di Torviscosa Monticolo ne aveva ottenuti 231 e Turco 134 le contestazioni sarebbero state una ventina ripartite fra tutti e tre i seggi importanti novità per Codroipo in questo 2022 ce ne parla il sindaco Fabio Marchetti due importanti novità per l'inizio dell'anno che riguardano la città di Codroipo ma anche il medio Friuli essendone Codroipo il riferimento principale e il capoluogo la prima riguarda la materia più importante di tutti ovvero sia la salute ieri ed ieri l'annuncio del vice presidente della regione con delega appunto alla salute dottor Riccardo Riccardi di un finanziamento molto importante una parte che era già di nostra conoscenza una parte che rappresenta una novità per oltre 14 milioni di euro per costruire a Codroipo finalmente la città della salute era uno dei nostri obiettivi di governo del 2011 che vedrà realizzarsi con la posa della prima pietra a metà del mese di maggio questo importante obiettivo l'altro annuncio che viene proprio il mese di gennaio è l'inaugurazione del teatro comunale di Codroipo che è un altro fiore all'occhiello del medio Friuli e dell'amministrazione della città di Codroipo altra opera pubblica che abbiamo fortemente voluto non ampliando nei posti ancorché noi siamo sempre con gli abbonamenti in overbooking ma aumentandone la qualità dello spazio interno e anche esterno quindi parliamo di poltrone flau parliamo di climatizzazione dell'interno quindi di un utilizzo anche nei mesi estivi di un importante edificio che si colloca nel centro di Codroipo e che qualifica l'offerta culturale della nostra città ed inaugurazione è prevista col primo spettacolo il giorno 22 immediatamente dopo il 21 in cui ci sarà il taglio del nastro tra poco Sport e FWG nel primo piano l'udinese le prese con il covid ma arrivano anche le convocazioni della nazionale argentina per Molina e Perez che sono stati chiamati per le gare di qualificazione ai prossimi mondiali poi gli altri sport Coppa del Mondo Under 20 di scherma e Corsa della Bora quindi appuntamento tra poco con Sport e FWG grazie per l'attenzione e buona serata grazie per la visione